buonasera a tutti allora sono un po in ritardo con i tempi ma piano piano ci arriviamo allora stasera vi voglio presentare questo bracciale questo bracciale che ho pubblicato nei giorni scorsi sui miei social sulla mia pagina sul mio profilo su instagram e ha riscosso veramente tantissimo successo e quindi io ringrazio tutte le ragazze che hanno lasciato commenti positivi su questo bracciale allora questo bracciale è il mio primo progetto realizzato per la collaborazione con la e il beat che per me è una nuova collaborazione allora qualche settimana qualche settimana fa circa un dieci giorni fa avevo fatto il video dell'unboxing dove vi avevo fatto vedere che avevo preso questi fili di gocce ci sono questi ci sono quelle violetto che vedete qui sul tavolo e c'erano queste ti che ho utilizzato per il bracciale allora questa sera andremo a fare il tutorial per realizzare questo bracciale ma lo andremo a realizzare nei toni del viola e antracite allora ciò che vi servirà sono quattro gocce che come vi dicevo questa sera andrò ad utilizzarle in questo bellissimo colore poi ci serviranno due colorazioni di rocaille 11 0 io utilizzo quelle della miuki e questa sera andrò ad utilizzare queste due in questo modo qua poi ci serviranno due colorazioni di 80 anche queste della miuki e poi ci serviranno delle 15 0 delle super duo e io stasera andrò ad utilizzare questo bellissimo viola ci serviranno dei mezzi cristalli da 3 mm e io andrò ad utilizzarli in questo oro satinato e poi ci serviranno questi separatori che ho sempre preso con la collaborazione e che sono bellissimi ci servirà ovviamente una chiusura e degli anellini di congiunzione io in questo caso ho utilizzato una chiusura a calamita ma potete mettere la chiusura che volete e direi nient'altro vabbè filo da tessitura forbici un ago numero 12 o al massimo 11 perché ci sarà da ripassare più volte all'interno delle perline anche delle 15 0 e quindi serve un ago piccolino e poi una perlina diversa da tutte le altre che ci servirà a fare da stopper allora io mi sono già portata avanti e ho già realizzato alcune componenti con i nuovi colori adesso andremo a realizzare insieme un modulino perché tanto poi i modulini sono tutti uguali gli unici diversi sono quello dell'inizio e quello della fine del bracciale quindi andremo a realizzare insieme il modulino con questo pezzo scusate che andrà poi a fungere da diciamo prolungamento del bracciale e dove noi andremo poi ad attaccare la nostra chiusura e poi vi farò vedere la congiunzione attraverso il separatore e la semplicissima congiunzione centrale quindi prepariamo ago e filo che io ho già qui pronti non guardate il mio ago perché è in uno stato pietoso però pazienza qui abbiamo già anche il nostro filo e quindi partiamo con andare inserire la nostra perlina che fungerà da da stopper quindi la inseriamo sul filo ripassiamo all'interno con lago e ce l'andiamo a fermare qua così allora poi prendiamo sul lago una 8 0 del primo colore e 12 11 0 dello stesso colore quindi 6 9 no scusate prendiamo ero già troppo avanti una 8 0 la portiamo alla fine del filo in questo modo poi prendiamo dalla parte più larga la nostra goccia e ci facciamo passare il nostro filo attraverso poi prendiamo un'altra 8 0 sempre dello stesso colore e 12 11 0 dello stesso colore quindi lo definirò colore a quindi sono 3 6 9 10 11 e 12 in questo modo portiamole alla fine del filo quindi qui vicino alla nostra goccia adesso giriamo con lo stoppino a sinistra ci rinseriamo da destra verso sinistra nella 80 quella di base e tiriamo il filo allora l'unica parte un pochino più rognosa è questa adesso riposizioniamo la nostra goccina nel verso giusto prendiamo altre 12 11 0 del colore a 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 questa è fatta male e 12 in questo modo e ci andiamo a reinserire nella 80 passiamo il filo tiriamo un pochettino allora le 11 0 in pratica devono stare sul bordo della nostra goccia in questo modo adesso teniamo in tiro il filo entriamo nelle prime 6 11 0 in questo modo e tiriamo il filo e tiriamo il filo e ci andiamo a inserire nelle altre 6 e nella 80 e tiriamo il filo stessa cosa di qua ci inseriamo nelle prime 6 11 0 prendiamo una rocaille del secondo colore e ci rinseriamo nelle altre 6 e nella 80 in questo modo adesso tiriamo un pochettino il nostro filo capottiamo di nuovo la goccia con la punta all'ingiù e ci andiamo a reinserire dentro la goccia in questo modo e ci inseriamo anche nella 80 da dove parte praticamente il nostro filo iniziale a questo punto togliamo la stopper biz e andiamo a farci dei nodini belli 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 stretti quindi uno tirate proprio tanto è 23 facciamo ancora uno e quattro ora aspettate un attimo a tagliare la codina del filo ciò che avremo è questo andiamo avanti allora stiamo uscendo dalla 80 ci inseriamo nella prima 11 0 successiva così prendiamo sul lago 2 11 0 a una b e altre due a in questo modo scusate una presa tra così e ci andiamo stiamo uscendo da questa 11 0 saltiamo quella dopo e ci inseriamo nelle due successive in questo modo tiriamo il filo e ci andiamo a posizionare le rocaille appena inserite in questo modo di nuovo prendiamo due a una b e due a così stiamo uscendo da questa rocaille saltiamo la successiva e ci inseriamo nella grigia nella grigia nella rosa e nell'altra grigia in queste tre e tiriamo il filo in questo modo non preoccupatevi se per il momento c'è qualche spazio poi dopo non si andranno più a vedere adesso praticamente facciamo di nuovo la stessa cosa 2 a una b 2 a saltiamo la rocaille successiva e ci inseriamo nelle due seguenti in questo modo tiriamo bene il nostro filo ancora 2 a una b e 2 a saltiamo la rocaille successiva e ci inseriamo nella 11 nella 8 e nella 11 in questo modo ora dobbiamo fare le stesse identiche sequenze sull'altro lato quindi io finisco il giro e poi ci rivediamo allora ho finito il giro e sto uscendo da questa rocaille 11 0 dopo la 80 adesso risalgo in queste due rocaille in quella rosa e nella prima rocaille successiva quindi mi porto ad uscire da qui adesso carichiamo sul lago 180 del secondo colore e ci andiamo ad inserire in queste due rocaille in questo modo poi scendiamo nella prima rocaille dopo la rosa prendiamo un mezzo cristallo da 3 ci inseriamo nella rocaille grigia quella che precede la rosa nella rosa e nella prima grigia subito dopo ora prendiamo di nuovo 180 del secondo colore ci inseriamo sempre nelle stesse rocaille quindi qui e usciamo sempre da questa grigia subito dopo la rosa ora prendiamo sul lago una super duo e una rocaille del colore a in questo modo e me mi è partito tutto benissimo ricapitoliamo così e ci andiamo ad inserire nella 80 così ora non ci resta che ripetere fino a qui la stessa sequenza e poi vi farò vedere l'inserimento da fare qui sotto allora arrivati nella parte sotto della goccia c'è fino a qui noi abbiamo fatto la sequenza a specchio allora arrivati qui sotto ci portiamo sempre ad uscire dalla rocaille subito dopo quella rosa carichiamo sul lago una 11 una otto una 11 18 e una 11 sempre del colore a aspettate che è andato fuori fuoco maledetto in questo modo e ci andiamo ad inserire nella rocaille 11 0 che precede la rosa e usciamo da quella rosa quindi tiriamo il nostro filo e qui sotto la sequenza sarà questa adesso usciamo dalla rosa prendiamo due 15 0 e ci inseriamo nella 80 altre due 15 0 e ci inseriamo nella 11 0 rosa quella che rimane più sporgente ok adesso una 15 0 e ci inseriamo nel mezzo cristallo solo nel mezzo cristallo di nuovo una 15 0 e ci inseriamo nella 11 più sporgente 2 15 0 e ci andiamo ad inserire nella 80 in questo modo adesso prendiamo 3 11 0 del colore a e una 15 0 quindi in questo modo qui e ci andiamo inserire nel foro alto della super 2 in questo modo poi prendiamo una 15 0 una 11 del colore a un mezzo cristallo una 11 del colore a e una 15 0 quindi la sequenza sul lago sarà questa e ci inseriamo nel foro alto della super 2 successiva in questo modo ora dobbiamo fare a specchio fino a qui la sequenza che abbiamo fatto da questa parte e poi praticamente da questa 11 0 a questa dobbiamo andare a mettere una 15 0 qui attraversare tutta la sequenza una 11 1 15 0 scusate tra queste due perline e poi proseguiremo il giro ok come vi dicevo ho aggiunto una 15 0 anche qui e qui ora ripasso attraverso le perline quindi le 15 0 e quelle più sporgenti fino a quando mi porta ad uscire dalla 11 0 che precede il mezzo cristallo ok siamo a questo punto stiamo uscendo da questa 11 0 prendiamo una 11 una 15 e una 11 in questo modo allora ci dobbiamo andare inserire in questo senso in questa 11 0 poi passiamo nel 80 in questo modo e rientriamo anche in questa 11 0 quella praticamente sotto la super 2 ok quindi siamo rientrati in queste tre perline adesso stiamo uscendo da qui prendiamo un'altra 11 0 e dal basso verso l'alto ci andiamo ad inserire nella 15 quella centrale di prima tiriamo un po il nostro filo prendiamo un'altra 11 0 e ci andiamo ad inserire nella 11 0 subito dopo il mezzo cristallo quindi in questo punto e tiriamo bene il nostro filo perché a questo punto se voi vedete il nostro modulino si inarca non è più dritto 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 ok adesso ripassiamo all'interno delle perline facendo qualche nodino di sicurezza fino a portarci ad uscire dal mezzo cristallo così andiamo poi praticamente a fare insieme questa parte qui allora stiamo uscendo dal mezzo cristallo adesso prendiamo allora una 11 0 del colore b un mezzo cristallo una 11 un mezzo cristallo una 11 un mezzo cristallo e una 11 praticamente sono 4 11 0 del secondo colore alternate a tre mezzi cristalli stiamo uscendo da questo lato del mezzo cristallo ci reinseriamo nello stesso dal lato opposto quindi così e tiriamo il filo ripassiamo all'interno di tutte le perline appena inserite tirando un pochettino bene il filo in maniera che rimanga bello stabile così e ci riportiamo su ad uscire di nuovo dal mezzo cristallo in questo modo ora facciamo altre tre segue altre due sequenze come abbiamo fatto qui quindi 4 rocaille 11 0 del secondo colore in questo modo usciamo da questo lato del mezzo cristallo ci siamo da questa parte quindi ci andremo a reinserire in questo verso nel mezzo cristallo ripassiamo e facciamo l'altra sequenza allora una volta fatte tutte e tre le sequenze prendiamo sul lago se i rocaille 11 0 del colore b in questo modo usciamo da questo lato del mezzo cristallo ci reinseriamo dall'altra parte e andiamo a ripassare un paio di volte all'interno di queste ultime rocaille inserite perché saranno il nostro anellino per l'aggancio della chiusura allora adesso stiamo uscendo dal mezzo cristallo dobbiamo andare a fare le decorazioni per fare le decorazioni servono una 15 una 11 e una 15 stiamo uscendo da questo mezzo cristallo ci andiamo a inserire nel mezzo cristallo sottostante dal lato opposto quindi in questo modo e tiriamo il filo ok di nuovo una 15 una 11 e una 15 e ci andiamo di nuovo inserire nel mezzo cristallo sotto quindi in questo modo e tiriamo il filo senza andarci a inceppare dietro come sto facendo io magari ho anche il filo cortissimo quindi faccio una fatica bestia ok è la stessa cosa nell'ultimo quindi una 15 una 11 e una 15 usciamo di qua e andiamo in in questo nel senso opposto così adesso per comodità capottiamo il lavoro usciamo sempre dal mezzo cristallo se la mia fotocamera magari mettesse a fuoco prendiamo una 11 scusate una 15 ci inseriamo nella 11 0 centrale tiriamo ben filo prendiamo un'altra 15 scusate allora stiamo uscendo dalla 11 0 centrale abbiamo preso un'altra 15 e ci inseriamo da destra verso sinistra nel mezzo cristallo e andiamo a fare questo inserimento incrociato praticamente per tutti e tre gli spazi poi facciamo qualche nodino di sicurezza e passiamo poi alla fase successiva dove andremo a congiungere i due moduli quindi il modulino base di per sé è questo quindi vi fermate al mezzo cristallo fate finta che questa parte non ci sia ok questi prolungamenti servono solo per il primo e per l'ultimo modulo quindi allora io sto uscendo da questa 11 0 ok adesso per unire i due modulini allora prendo una 11 0 dello stesso colore e mi inserisco nel foro del separatore e mi metto tutto qua allora adesso vediamo di riuscire a farvelo vedere in maniera decente ce la possiamo fare quindi adesso sono così prendo un'altra 11 0 e la porto vicino al separatore prende il secondo pezzo e mi vado a inserire praticamente nella 11 0 in corrispondenza da quella dove io sto uscendo quindi in questo caso in questa e faccio passare il mio ago ora prima di tirare bene il filo prendo un'altra 11 0 mi vado a ri inserire nello stesso foro di prima quindi il primo foro da dove siamo entrati e tiro un po il filo aspettate che mi sono anche agganciata e tiro il filo prendo un'altra 11 0 e mi vado a inserire nella 11 0 da cui sono partita ma nel lato opposto quindi in questo modo ora dobbiamo cercare di tenere tutto dritto per bene e di tirare bene il filo in maniera che le 11 0 vadano contro il separatore adesso ripassiamo all'interno della 11 0 del foro e di questa 11 0 dall'altra parte quindi quella sempre in corrispondenza vedete 1 e 2 sì qui l'unico pasticcio un po l'andarsi incastrare con tutti i vari fili e tiro bene 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 il filo ok ora mi inserisco nella 11 nella 8 e esco dalla 11 centrale e tiro sempre bene 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 il mio filo ora prendono 11 mi inseriscono il foro centrale del separatore quindi esco dall'altra parte prendono 11 mi inserisco nella rocaille centrale anche in questo lato ok adesso non prendo un'altra rocaille ma mi inserisco nella rocaille precedente quindi in questa e vado ad uscire con l'ago sempre dal foro centrale in questo modo entro anche di qua in questa rocaille purtroppo è un po complicatino ora capite perché c'è tutto lago sbilenco ma ce la possiamo fare con un po di pazienza ok rientriamo nel film nel 80 nella 11 nell'altra 80 e ci portiamo in pratica ad uscire dall'ultima 11 questa qua e tiriamo bene il filo ok ora una 11 e passiamo nell'ultimo foro del separatore diciamo dall'altra parte una 11 ci inseriamo anche di qui nell'ultima 11 0 ok in questo caso prendiamo di nuovo una 11 e ci andiamo a reinserire nello stesso foro e spuntiamo dall'altra parte un'altra 11 e ci andiamo ad inserire nell'ultima 11 0 anche qui è un po ok in questo modo tiriamo bene il filo e come vedete i due modulini sono attaccati ora rientriamo in questa 11 0 nel foro e nella rispettiva 11 0 dall'altra parte così ripassiamo anche un attimino e rientriamo in tutta la sequenza qui sotto così ok ora camminiamo attraverso tutto il bordo fino ad arrivare al mezzo cristallo quindi ripassiamo all'interno delle perline facciamo qualche nodino e ci portiamo ad uscire dal mezzo cristallo allora adesso noi abbiamo le due metà del bracciale e dobbiamo andarli ad unire qui in mezzo cosa semplicissima perché non dobbiamo fare nient'altro che prendere una 11 un mezzo cristallo una 11 e tenendoci aspettate chiedi qua mi sono lasciato anche un pezzo di filo tenendo i due modulini in questo modo quindi noi stiamo uscendo da qui abbiamo inserito sul lago questa sequenza ci andiamo ad inserire nell'altro modulino in questo modo poi prendiamo di nuovo una 11 un mezzo cristallo e una 11 e ci andiamo a congiungere con l'altro modulino e i due modulini sono attaccati ora ripassiamo un due o tre volte e poi facciamo la decorazione allora la decorazione in pratica è la stessa che abbiamo fatto prima quindi una 15 una 11 e una 15 in questo modo stiamo uscendo qui dal mezzo cristallo ci inseriamo nel mezzo cristallo sopra nel senso opposto quindi aspettate che mi metto in modo da riuscire a farvi vedere qualcosa e da riuscire a centrare io le perline quindi in questo modo tiriamo prendiamo di nuovo una 15 ci inseriamo nella 11 centrale tiriamo sempre bene 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 il filo in maniera che passa anche bene sotto le perline un'altra 15 e uscendo dalla rocca il centrale ci andiamo a ri inserire nel nostro mezzo cristallo e la decorazione centrale è fatta ora io ripasso ancora un attimino faccio qualche nodino e poi ci vediamo per mettere la chiusura ed eccoci qua due anellini una chiusura a calamità e il nostro bracciale è finito io spero che questo tutorial e questo bracciale vi siano piaciuti a me piacciono entrambe le colorazioni sono braccialetti pochettino particolari un po diciamo adatti anche per queste feste natalizie anche se non potremmo fare chissà cosa però metterci qualcosa di carino è sempre una una cosa positiva mi raccomando fatemi sapere nei commenti e se il progetto vi piace quale delle due colorazioni preferite fatemi sapere la vostra opinione io vi do la buonanotte vi ricordo che nell'info box vi metterò il link al sito della lbiz e i link diretti sia alle gocce che ai separatori che ho utilizzato e che appunto avevo preso nella collaborazione con loro vi metterò se vi fa piacere anche il link della mia pagina e del mio profilo instagram così magari se vi fa piacere mi seguite anche sui miei social mi raccomando se il bracciale il video vi sono piaciuti un pollice in su se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate la campanellina così rimanete aggiornati sul caricamento dei nuovi video e se per caso avete intenzione di lasciare un pollice in giù vi chiederei cortesemente di spiegare anche la motivazione perché se avete il coraggio di lasciare un pollice in giù sotto un tutorial vuol dire che qualcosa non vi è piaciuto e per noi creative che facciamo i tutorial e quindi ci mettiamo del nostro tempo della nostra fantasia potrebbe essere utile sapere il motivo per cui un tutorial o un video non piacciono un abbraccio a tutti e al prossimo tutorial buonanotte